La sete è pietrificata, questo è il titolo del romanzo di Anton Nikberischa, presentato a Cosenza sul terrazzo Pellegrini. Nel libro l'autore Kosovaro narra la propria storia attraverso frammenti intensi e drammatici della vita del protagonista, Jim Bardela, il suo doppio che gli assomiglia come un gemello e lo segue come un'ombra attraverso sentieri impervi, pieni di storie di morte e di nostalgia per la terra di origine. Sono tante cose che ho raccontato in questo libro, sono collegate con lo spirito del personaggio Jim Bardela, lui è il personaggio principale, lui parla con se stesso, riflette, dice, è un personaggio abbastanza complesso che ha tirato attenzione ai tanti autori, autori diciamo italiani che hanno scritto 22 saggi diversi sul romanzo. C'è un lavoro di sette anni che ho fatto scrivendo questo romanzo, non è una cosa che è stata fatta diciamo in fretta, è una cosa che mi ha preso tanto tempo e poi mi sono sentito abbastanza bene scrivendo questo romanzo. Ho fatto una ricerca diciamo psicologica ma sempre espressa attraverso l'arte, quella era la cosa diciamo più significativa. ho fatto un'amminamento in una dimensione antropolitana.